Un 25enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Pistoia per spaccio di sostanze stupefacenti in parchi e giardini pubblici del centro cittadino e della prima periferia di Pistoia, frequentati anche da bimbi piccoli. L'arresto fa parte dell'operazione denominata Dune Bianche che le Fiamme Gialle e Pistoiesi hanno compiuto lo scorso 18 luglio e che ha portato all'esecuzione di quattro misure cautelari, tre arresti di cui due in carcere non obbligo di dimora per spaccio di stupefacenti, soprattutto cocaina, nei quartieri delle Fornaci e di Porta a San Marco, prima periferia della città. Nel tardo pomeriggio di ieri i militari delle Fiamme Gialle, intenuta da Joking, mimetizzandosi con altri che stavano praticando sport nella zona, supportati però da autopattuglie, avendo saputo che il 25enne era nel parco del quartiere delle Fornaci, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. L'uomo è stato portato nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria.